Musica Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Oggi ragazzi volevo fare un video un po' speciale che non ho mai fatto sul canale Questa tipologia di video Volevo fare un Demolition Derby con Lepanto Ed ecco accusa di pazzesco Guardate la foto Ci sono tutti questi container qua volanti E ci dobbiamo scontrare con le macchine E chi va giù ovviamente perde Ed è un LTS veramente molto bello Ovviamente con noi ci sono i miei miei della Q Salutate E quindi ragazzi ci sono anche altri membri che non hanno il microfono Oppure ho mutato perché avevano problemi di audio Comunque ci sono sempre Sta entrando gente nuova Quartz 86 Questo sarà il bomber della gara sicuramente Del LTS Quindi ragazzi possiamo partire Ok ragazzi partiamo Io sono sempre in costume qui con i mega tatuaggi E iniziamo a prendere la nostra Panto Tutti uguali Guardate le nostre scatolette di tonno Ok Vai ragazzi Che cacchio entri in macchina Vedi che sta Ok E lì aprendi la macchina Dai Vai ragazzi Vai Boom Aiuto Ragazzi una mano Una mano Una mano Una mano Una mano Oddio Come si scivola Dai Che casino Vai Troppo bello Dai lo sto spingendo Lo sto spingendo Lo sto spingendo Buttalo giù Buttalo giù No Sì Buttalo Sì 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 Vai Ma dovrebbero esplodere giusto Dovemmo ammazzare questo Vai Umark 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 Aiuto 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 Elia Oddio Che casino Vai 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 giù Figlio di Trorio No Sei troppo maleducato Dai che stiamo vincendo Già il primo round Ma gli altri sono ancora giù Ma come cazzo andiamo a prenderli Infatti È un macello Ma ci sono le armi giù Non ho capito cosa c'è I manganelli Non lo so ragazzi Abodi Dadi Che cacchè Un musulmano Sì Madonna Che cazzo era schiacciante Tutti gli eserciti Troppo bello Dai Spettacolare Sì Cioè si va killer Che ha fatto Trocissioni Spettacolare Ok ragazzi Secondo round Troppo da ridere Questa modalità Perché Siamo Le scatolette del tonno Che si scontrano Ok ragazzi Abbiamo adesso Le macchine blu Il mio colore preferito Quindi Elia Facciamo il casino E anche con gli altri Si va killer Chi stai spavano Giusto Ok ragazzi O scendiamo insieme Ah c'è quello Che non sta manco giocando Che è Nirli Eccoli No aspetta aspetta Eccoli Vai uno c'ha due Vai zombie Non ci credo Non creda Dai No aiuto Ragazzi No perché crashano Ma perché crashano tutti Schifo di server Il portassi che cadono sotto Sono pochi Ma sta da baseball Fa il canello Tutto ci stavo Guarda Iri di porto Tutto Aiuto Ragazzi Aiuto Vai vai Giriamoci Giriamoci Dai Dai Ok No non devi cadere Boom No Come fa No 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 Non mi posso spingere No 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 Aspetta devo cadere bene Ok Furi dalla zona Ah ecco perché si perde Perché si è Se cadi Perdi Aiuto Perché le spesche è morto Sì ma mi deve investire Giustamente È uscita dall'LTS Ma tutti uscita dall'LTS Se adesso vai a scoppiare Ti voglio vedere a te Poi Aiuto Ragazzi Non posso più tornare sopra Purtroppo Perché ovviamente Niente abbiamo perso questo Giusto Sì questa l'abbiamo persa Devo riuscire a rimanere Sopra Sì sì Devo riuscire a rimanere Sopra Ragazzi Terzo round Perché ne avevo messo i due Ma finalmente Se fa il pareggio C'è quello finale Come dicevo dopo l'italiano Giusto Rimandiamo lì a tirare Ma senza volare Così li butto tutti fuori E prendiamo le ultime macchine Che noi prendiamo a un finto Mentre il ringuno Ah Non cagliare Sai quel vero Che luce Per sostiene Eh ma Qua è mai il problema Guarda Dai No no Non voglio andare giù di nuovo Non voglio Ma perché Cioè quando urtiamo Ragazzi È sempre Aiuto Aiuto Ragazzi Quando urtiamo È sempre Dove sta il container Così non riescono Ad andare giù Che schiacciatura Sto facendo Vai Ehm DJ Mast ha percorso 4 Come ha fatto Per poterlo Raga Non voglio cadere Raga Via Ok Non voglio andare giù 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 Tanto Ale Se noi rimani al suo Abbiamo vinto Appunto Appunto Dai Ragazzi Perché mi spinge lì Vai 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 Così non volavi giù Guarda che ti stai ripaltando Sì ho notato Dai Siamo rimasti 3 contro 1 Tutti Vai Ok Vai 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 No 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 Mi dovete far cadere giù Che poi si scivola E non Spingi 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 Sì Il problema è mantenere la macchina in equilibrio Perché è veramente un casino Allora facciamo Facciamo una cosa Facciamo una cosa Facciamo tipo il giro contrario E ci scontriamo No No Elia Dai raga Raga Ragazzi Dai Sì 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 Vai Sono rimasto solo sopra L'ho buttato giù L'ho buttato giù Vai Vai raga Raga Allora rimango qua Perché così Oddio Che caspita è successo sotto Dai C'è una macchina in testa Abbiamo vinto ragazzi Abbiamo vinto Mi sa che abbiamo vinto del tutto 16.000 dollari Grande E 4.277 RP Ottimo 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 Ok ragazzi Per questo video è tutto Ci siamo divertiti un macello Abbiamo fatto un casino Abbiamo buttato tutta la gente giù Per fortuna sono riuscito a rimanere in vita alla fine Ditemi se volete altri demolition derby Con altre macchine Perché stanno anche con il Liberator Se non mi sbaglio Quindi immagino che succederebbe là Con la trazione della Madonna Quindi ragazzi Per questo video è tutto Lasciate tantissimi like Commentate Condividete il video Ragazzi Superiamo i 50 mi piace Per il prossimo episodio E Aless Pesca saluta Ciao a tutti Salutiamo anche tutti gli altri partecipanti E membri della crew Ragazzi Lasciate un like sulla pagina di Facebook E seguitemi anche su Instagram Quindi ragazzi Da questo LTS Demolition Derby È veramente tutto Noi ci vediamo al prossimo video Bella raga Ciao a tutti Grazie per la visione!